no questo lo tagliano tanto no che tagliano volete tagliare questo momento anzi riprendeteci con i telefonini se in onda non lo vedrete protestate col kodakons ma non è che posso andare in onda dicendo dai ma si io si tu sei una signora peggio per sé continui a fare gesti se continui a fare così ragazza dai andiamo avanti 3 2 1 vai